Sampatrino le ricavano, ma ragazzi, sentate voi a dire che si può stare molto erogati per aprire le strade. Infatti abbiamo aspettato questa giornata perché sapevamo del vostro calore. Allora, ma in termina in quasi attagione, dicevo, non è vero, sta sotto per le ricavano fra l'orizzonte, che era un vento tremendo, scusa, cose campane. Siamo qua, vi piacere che ci avete trovato della vostra presenza, noi faremo del nostro meglio come sempre.